una diretta, ma intanto faccio partire il Promo Disco Promo Disco, la musica da promuovere per giovani talenti Promo Disco, solo, su Gela Express, la radio sponsor dei giovani emergenti Molly Beat, con Molly Narciso, più spazio di artisti emergenti con il Promo Disco in diretta on air e online Bene, siamo in diretta e online, siamo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook quindi non soltanto, chiaramente sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express e diamo il bentrovato ad Andrea Arbocida Buongiorno a tutti, buongiorno Buongiorno, ci siamo radiotrasportati a Torino? Sì, giusto Perfetto, quindi ne approfittiamo, salutiamo ovviamente gli amici di Torino e che ovviamente seguirà questa diretta anche a mezzo social abbiamo fatto aspettare un po' i nostri amici, ma non potevano perdersi questa diretta e non potevano non ascoltare, la tua voce è bellissima già te lo dico in anticipo, mi è piaciuta tantissimo e anzi ti faccio i complimenti, si vede davvero che ci hai lavorato tanto sicuramente i complimenti vanno anche alla tua insegnante allora, oggi ci presenti Colibri, quindi parliamone Allora, Colibri è il mio primo singolo desordio diciamo che ho avuto sempre la posizione della musica e quindi per rendere questa cosa un po' più concreta oltre appunto a prendere lezioni di canto ormai da un sacco di anni ho deciso di entrare a far parte di una casa discografica appunto la Giuseba Publishing che è il produttore appunto di Gianni Testa e abbiamo deciso di iniziare a scrivere cioè di iniziare appunto a pianificare un percorso discografico e Colibri è il primo pezzo desordio appunto di questo progetto Perfetto, io ho avuto modo un po' di seguirti anche a mezzo social quindi ho sentito anche quello che hai un po' rilasciato in altre interviste perché sono proprio per natura molto curiosa quindi tra le tante cose che ho avuto modo di ascoltare da te riguardano proprio, come hai voluto sottolineare tu in più occasioni l'assenza di meritrocrazia qui in Italia e quindi questa cosa vorrei tu potessi anche esporla qui approfittare anche di questa diretta per esprimere il tuo pensiero Sì, diciamo che secondo me in Italia la musica e l'ambiente musicale Non ti allontanare dal microfono perché sennò non ti sentiamo più Ah ok ok, dicevo che la musica e il mondo della discografia in generale secondo me in Italia è meno meritocratico invece se guardiamo, se vediamo dei paesi come l'America diciamo che le persone, i cantanti che diventano famosi secondo me meritano più di molti cantanti che diventano famosi in Italia Quindi darei più attenzione all'ascolto perché appunto c'è tanto da scegliere e quindi insomma maggiore attenzione alla musica Sì, esatto E mi fa piacere che l'hai voluto condividere con noi Allora Colibri si parla ovviamente anche d'amore Giusto, esatto Un amore che io e gli altri due autori del testo appunto Giovanni Segreti Bruno e Francesco Greco abbiamo voluto renderlo diciamo più universale possibile Infatti il nostro obiettivo era proprio quello che ogni singolo ascoltatore si potesse riconoscere in qualsiasi parola del testo appunto presente nel brano Che importantissimo poi lo scopo, lo strumento che avete a disposizione per poter ovviamente contaminare insomma chi vi ascolta con la vostra musica mettendo dentro tanti messaggi meravigliosi di cui noi poi facciamo buon uso ovviamente lo adattiamo un po' anche a quelle che sono le nostre esperienze di vita Bene, a questo punto direi dacci delle info però prima c'era una domanda dove appunto chiedeva mi sembra Kevin perché Kevin è quello che... sì Come ti si è avvicinato alla musica? Allora, come mi sono avvicinato alla musica? Ho sempre ascoltato tantissima musica mi ricordo fin da piccolo prima di andare a scuola faccevo colazione davanti a MTV ascoltavo tantissima musica quindi Lady Gaga, Beyonce, Madonna poi crescendo mi appassionavo tantissimo anche al Soul quindi ho iniziato ad ascoltare Aretha Franklin poi ho ascoltato anche Tina Tarni quindi diciamo che in tutto questo piccolo pezzo di vita che ho fatto finora ho ascoltato tantissima musica e mi è sempre piaciuto quindi ho anche sempre cantato e niente diciamo che la musica fa parte della mia vita Bellissimo, ovviamente continua a far uso di questo strumento perché hai dimostrato, io ovviamente ho fatto come tanti magari un preascolto quindi so già che quello che andremo ad ascoltare è bellissimo ovviamente ti trovano anche a mezzo a piattaforme quindi social, youtube, cioè insomma chi più ne ha più ne metta quindi cercate Andrea Armocida ascoltiamo Colibri e lo ascoltiamo insieme quindi siamo tutti pronti a mettere un like, un cuoricino un sostegno ovviamente ad Andrea Armocida ma ovviamente noi lo facciamo con tutti gli artisti noi siamo prontissimi quindi ti mandiamo un grande abbraccio continua così e ancora complimenti ancora per la tua voce straordinaria adesso gli amici in ascolto mi daranno ragione Colibri, alla prossima mi infranti mille pezzi fragili come specchi mi perdo nei riflessi affondo negli eccessi duecentomila fattori o voli alto non voli che se muori cadendo puoi dire ho visto il mondo da qui, da qui, da qui da qui, da qui, da qui siamo liberi a tratti magnifici colibri, colibri, colibri colibri, colibri, colibri nascondimi i libidi oltre quei limiti colibri, colibri, colibri colibri, colibri, colibri ed ora se vuoi spiega l'amore che ci lega abbiamo il vento in vela fa un freddo che si gela duecentomila fattori o voli alto non voli e se vivi salendo apprezzerai il momento da qui, da qui, da qui da qui, da qui, da qui siamo liberi a tratti magnifici colibri, colibri, colibri colibri, colibri, colibri nascondimi i libidi oltre quei limiti colibri, colibri, colibri colibri, colibri, colibri siamo da soli in camera il letto con te sembra una città la nostra storia è un'altalena il traffico scorre sulla mia schiena la nostra storia è un'altalena che ci lega colibri, colibri, colibri colibri, colibri, colibri Riesco di prima, ti capo sempre vedi, sempre vedi, sempre vedi, sempre vedi, sempre vedi. Riesco di prima, ti capo sempre vedi, sempre vedi, sempre vedi, sempre vedi, sempre vedi. Le giorni alle 11.40, domani chiudiamo, chiudiamo come sempre la settimana insieme, quindi vi aspetto, ma noi continuiamo, continuiamo con tanta buona musica qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Domani 11.40, spazio, interviste Moli Beat in vostra compagnia. Bene, a questo punto chiusura del Promodisco.